Che vuoi amare? Uomini e donne, Andrea Dal Corso ritorna dallattronista Teresa Certi amori…. Dopo essere stato eliminato, Andrea ritorna dallattronista Teresa Langella. I colpi di scena a uomini e donne non mancano mai. . Infatti, nel corso dellultima registrazione del trono classico, c'è stata la nuova scelta di Teresa Langella, la quale ha preferito perdonare uno dei suoi corteggiatori. . Stiamo parlando di Andrea Dal Corso, il quale ha fatto nuovamente il suo ingresso in studio, pronto a riconquistare il cuore della bella tronista napoletana dopo laddio della registrazione precedente. Un corteggiatore in più. . Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che nella registrazione di due settimane fa, Andrea ritorna dallattronista Teresa. . Un addio che aveva spiazzato tutti in primis lo stesso Andrea Dal Corso, il quale in quel contesto non era riuscito a trattenere le lacrime ed era andato via, accettando la scelta di Teresa. . Tuttavia, col passare dei giorni, il ragazzo si è reso conto che quella non era la decisione giusta per entrambi e così ha scelto di non mollare la presa. . Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del programma, infatti, rivelano che Andrea Dal Corso ha provato in tutti i modi a riconquistare il cuore della tronista. . Al fine di riconquistare il cuore della ragazza partenopea, le ha preparato diverse sorprese. . Tempesta in arrivo. . Dopo che Andrea ritorna dallattronista Teresa, sicuramente ci saranno delle forti ripercussioni. . Lattronista ha scelto di riaccoglierlo in studio e quindi di dargli una seconda possibilità. . La scelta di Teresa di riportare in studio il corteggiatore Veneto non è passata inosservata. . Gli altri corteggiatori non hanno gradito tantissimo questa decisione. . La tronista appare fortemente in crisi sebbene ormai sia arrivata ad un passo da quella che sarà la sua scelta ufficiale in trasmissione. Chi sarà il fortunato a fare breccia nel suo cuore? Lo scopriremo presto. .